Gregoretti, settima edizione del premio Gregoretti, tra l'altro quest'anno premiati di grande prestigio. Beh diciamo i premiati più o meno da qualche anno a questa parte sono stati tutti di prestigio, basti pensare alla Fontrotta, a Mimmo Paladino, a Furio Colombo, quest'anno ne abbiamo di altrettanto prestigiosi che vengono perché li diverte l'idea, io speculo un po' su questo, non è che gli si propone vieni a prendere il premio Striga, magari, però insomma è un po' ovvio, ma vieni a prendere un premio in un piccolo paese del sannio che nessuno sa dove sta e poi rimangono incantati dalla bellezza di questi luoghi, sanniti dalla simpatia degli abitanti, dalla bontà dei cibi e quindi, come dire, conservano tutti un ricordo molto lusinghiero per noi di questi premi. Ecco professore, guardando ai premiati emerge un giovane regista che viene diciamo quasi dal giornalismo d'inchiesta che con questo film La mafia uccide solo d'estate è stata una delle sorprese di quest'anno. Da un grande regista, qual è la sua idea su Piff, regista su questo film e sul futuro che potrà avere, che già si parla di un secondo film? Beh, diciamo, il mio rapporto con Piff nasce dal fatto che si viene detto comunemente che Piff è un mio continuatore e io, confesso, non avevo nemmeno mai visto le sue cose perché non so maneggiare il televisore e allora l'ho voluto vedere e in effetti sì, è vero, lui probabilmente non aveva mai visto le cose fatte da me o forse lo dice, beh, fatto sta che c'è una specie di figliolanza, se vogliamo, artistico, ironica e tant'è vero che poi hanno, Rai non mi ricordo quale, ho fatto un confronto, un incontro confronto tra noi due e da questo è nata una simpatia, un sodalizio e quindi lo premiamo, solo che siccome è un po' così volage viviamo con il patema d'animo di non essere del tutto certi che venga. Eh, capito Piff, vieni per favore, fammi far fare figuracce.